Buongiorno, benvenuti a questo corso di Forest Gardening o come si può tradurre in italiano Giardino Foresta. Allora, questo corso prevede degli approcci di tecniche di coltivazione dei giardini in ambiente mediterraneo, ecco perché la seconda parte prevederà una tecnica specifica per l'aridocoltura. Io mi occupo di giardinaggio, mi chiamo Giulio Fittipaldi, sono naturalista e oltre a tenere corsi di formazione, a volte, quando capita, sono anche docente di scienze naturali, alle scuole medie o superiori. Mi occupo del giardinaggio, poi sono presidente di un'associazione per la custodia e la valorizzazione delle antiche varietà. Io allevo e coltivo piante rare, cioè le piante fuori commercio, quelle piante che ormai sono state trascurate e abbandonate dall'agricoltura meccanizzata e industriale perché ritenute non competitive. Quindi coltivo queste piante in piccole quantitative e con sistemi naturalistici. Non ho un vivaio industriale dove le piante sono tutte in fila, ma piuttosto delle piante tenute a gruppi per evitare l'evapotraspirazione, con dei sistemi che poi vedremo man mano. Quindi mi occupo di verde da sempre perché ho avuto la fortuna di crescere in campagna e con le piante ho avuto sempre a che fare. Poi per passione la cosa è diventata un po' più professionale. Mi fa piacere la partecipazione di tante persone a questi programmi, a queste attività perché al giorno d'oggi ci si rende conto di quanto abbiamo bisogno e quanto dipendiamo dalla natura e non solo dal supermercato, perché tra l'altro il supermercato non avrebbe modo di esistere se non ci fosse la natura con il suolo e tutti i suoi componenti. È importante tutto questo. Vi ringrazio e mi fa piacere dell'entusiasmo che c'è nella partecipazione in queste occasioni perché per l'Italia è una novità degli ultimi decenni. Io ho avuto dei primi contatti e esperienze nel nord Europa, in Germania, Inghilterra, Svizzera. Lì si parlava di queste cose già alla fine degli anni Ottanta, pensate. Però è bello che sia arrivato a fin qui. Io mi chiamo quindi Giulio Fittipaldi e sono naturalista. Quello che vi darò come indicazioni spero possono essere sufficienti, possono essere di stimolo per le vostre attività, ma c'è sempre da tenere in considerazione durante questi discorsi ciò che serve per la famiglia e ciò che invece è un prodotto industriale ed è commerciato su larga scala. Allora, io ho un po' di terreno. Vi racconto anche le mie esperienze in mani a mani che andremo avanti e di cosa si fa praticamente. Con questo terreno in circa dieci anni ho messo tante varietà di alberi da frutta, di antiche varietà resistenti che non hanno bisogno di fitofarmaci, eccetera, anche se è una lotta continua con gli insetti. E quindi abbiamo raggiunto quella che definisco una grande soddisfazione perché è l'autosufficienza alimentare per quanto riguarda la frutta. Cioè noi, la mia famiglia, non compriamo frutta, solo quella tropicale per sfizio, giusto perché non crescono i noci di cocco e gli ananas. Vivo sul Pollino, quindi circa 200 chilometri da qui, sul versante Lucano del Pollino, quindi in Basilicata, 400 metri sul livello del mare, un'altitudine un po' simile all'altopiano qua delle murge in Puglia, però con un clima un po' più fresco. Francavilla si chiama il paese, Francavilla sul Sinni, un'altra delle Francaville sparpagliate per l'Italia, ce ne sono nove. Allora, Francavilla sul Sinni, Sinni è il fiume della Basilicata, è 400 metri sul livello del mare. Abbiamo raggiunto questa soddisfazione perché? Perché ho puntato e perché bisogna avere, oltre che entusiasmo, bisogna essere caparbi, un po', tra virgolette, nell'insistere a provare con delle specie che ti piacciono, che ritieni utili. Non si può, per esempio, coltivare la mela golden e poi pensare di raccogliere dei bei frutti, pure col bollino magari di carta attaccato sopra. È impensabile. Però se ci si rivolge verso il melo limoncello, qualcuno forse avrebbe sentito parlare, questo limoncello o limoncella è l'antenata della golden. È più piccola, la buccia è più spessa, la buccia è più spessa significa che è meno attaccata dagli insetti e anche dalle malattie della ticciolatura. E il sapore va bene lo stesso. Per l'uso familiare è importante tenere in considerazione che se hai un terreno e puoi trarne dei vantaggi e non compri, hai già raggiunto una grande soddisfazione. Non si può andare al mercato con questi prodotti, non si può venderli perché il mercato, l'economia e tutte le politiche agrari che ci sono dietro, quelle sono strategie dettate dai soldi e per cui sono spietate. Se i prodotti naturali che produco li porto al mercato, non li guardano nemmeno perché hanno dei difetti, perché c'è un insetto che l'ha bucata, perché manca una foglia non è rotonda anziché essere ovale e tutte queste cose qua. E vogliono dei prodotti standard che ben sappiamo, ben conosciamo. Nell'agricoltura che faccio io di tipo biologico, ma biologico non cartaceo documentato. La mia è biologica per scelta e perché era biologica già dai miei nonni prima ancora che inventassero il termine di biologico. Il biologico poi l'hanno inventato e se ne sono appropriati. Gli enti mi riferisco, gli enti e tutti quelli che insomma producono documenti per il biologico. Quindi biologico significa, io non uso concimi di nessun tipo, mai, perché abbiamo un po' di animali e quindi posso compensare la fertilità del suolo con l'utilizzo di stallatico maturo. Lo stallatico, dicevo con qualcuno ieri sera, dopo tre anni, lo utilizzo dopo tre anni, non è più stallatico, è quasi compost, quasi humus ormai. Quindi si dà soltanto un aiuto in più. Piccoli interventi in natura ci vogliono, perché noi abbiamo un problema. Tutte le piante coltivate, o la maggior parte delle piante coltivate, sono piante delicate. Sono piante che sono state selezionate dall'uomo e tenute con cura, portate avanti con estrema cura, come se fossero tenute sotto una campana di vetro. Una pianta qualsiasi, un ciliegio, una lattuga, o una cima di rapa. È una varietà delicata, perché non è forte e competitiva con le piante spontanee. Allora, se noi prendiamo una di queste piante, la mettiamo in un campo, non ce la fa a sgomitare e a crescere e andare su facilmente. Almeno non facilmente. È facile riuscirci se usiamo stradi erbaci diversi. Adesso cominceremo con il nostro discorso della forest gardening. Allora, se noi mettiamo degli alberi da frutto in un prato, allora quelle ce la fanno, perché sono alberi. E grazie, riescono a competere sull'erbaceo, perché sono alberi, sono più grandi, coprono lo strato erbaceo e vanno su. Ma tra alberi o tra erbaceo, la competizione non è forte, è fortissima, è pazzesca. Le piante lottono, anche se qualcuno non ci crede, sentono, ascoltano e intuiscono. Non diciamo capiscono, ma intuiscono. E comunicano, non parlano, come sto facendo io in questo momento, ma comunicano. Comunicano e lottano in un modo impensabile, a base soprattutto di lotte biochimiche. Quindi dicevamo, piuttosto è facile intervenire con degli alberi su un prato. Allora, si mettono gli alberi sul prato, diventa un frutteto, misto, di tante specie, tutto può funzionare, può andare bene, però c'è bisogno poi di quello che parleremo, della manutenzione. Cosa succede? Ma se prendiamo degli alberi e li vogliamo far crescere in natura nel loro stesso habitat, del bosco, provate a immaginare, degli alberi da frutta in un bosco, possibilità di supervivenza, zero. Sono più piccoli, sono più delicati, sono bassi. Alberi da frutta in un bosco, al limite si può competere con qualche cosa, però quel qualche cosa è limitato, sia come quantità e sia come qualità. Ad esempio, il ciliegio selvatico, è una pianta, appunto, selvatica che può crescere nei boschi, ma trovi un albero ogni tot metri quadrati, ogni forse 100, 200, 300 metri quadrati, a seconda poi delle zone. Non troverai mai un fruttetto di ciliegi selvatici tutti vicini. E poi trovate solo il ciliegio selvatico, e non ce ne sono più. Poi, se ti devi spostare di centinaia di metri o chilometri, troverai un susino selvatico che fa dei frutti piccoli così. Per la famiglia vanno bene, sono buonissime, sono ottime per fare le marmellate, perché io li coltivo, però in un bosco l'albero diventerà alto 10-15 metri e la raccolta la puoi fare solo quando i frutti cadono a terra, perché diventa un po' più complicato. E questo per quanto riguarda insomma le situazioni spontanee. Dicevamo per l'erbace, se noi andiamo a intervenire in un prato, è semplice intervenire con gli alberi, ma il prato, almeno i nostri prati, sono solo degli ex campi abbandonati. Prima c'era il bosco, quindi già sono stati trasformati. prima c'era una foresta, c'era un bosco, c'era una macchia, è stata trasformata a botta di coltivazioni e alla fine è diventato un prato. È facile intervenire, perché già abbiamo piazza pulita. Ma se andiamo nel prato e vogliamo mettere l'erbace, bisogna fare quello che è stato fatto al bosco, togliere pure l'erbace, l'erbace, o erbace come si suole chiamarle. Io da naturalista le chiamo erbace, perché sono le piante erbace spontanee che danno tantissimi fiori e per certi luoghi sono anche utili e indispensabili. Naturalmente per noi diventano inutili quando vanno a competere con le nostre piantine, che sono delicate loro, non perché le erbace sono cattive. Quindi nel campo coltivato c'è bisogno di interventi un po' drastici. E lo chiamo già drastico, l'intervento di aratura. E' però una pratica che diventa indispensabile in ambienti mediterranei e in certi ambienti difficili. Si può andare oltre, si può fare tutto in agricoltura. La cosa bella che mi confrontavo con qualcuno è che si può prendere, imparare a qualsiasi età della vita. Anche a 110 anni puoi avere la passione, ti scoppia la passione per le piante e provare a coltivare. E ci puoi riuscire. E poi metti su un piatto della bilancia. Quanto ne vale la pena coltivare senza arare e quanto ne vale la pena coltivare arando. Se hai tanto tempo a disposizione e hai un'altra attività che ti dà della rendita, allora puoi anche coltivare con altri sistemi più complessi, più difficili. Coltivare delle piante erbacee, di ortaggi, mi riferisco, in un campo senza arare, può essere fattibile. Però io vi invito, e anche vi sfido un po', provateci. Vedete quanto può essere fattibile a seconda dei luoghi dove andrete ad agire. Perché ci sono luoghi e luoghi. Il terreno, lo vedremo, spero di avere anche possibilità più avanti, cambia, noi diciamo, da un palmo all'altro. E a volte è vero, tra un metro di differenza, più in qua, o più in là, hai dei fattori chimici e fisici completamente diversi. Un metro più in là è più umido, crescono gli ortaggi, un metro più in qua è troppo secco, c'è la roccia fiorante, o c'è sabbia, non crescono più quegli ortaggi, o crescerà qualche altra cosa. E bisogna imparare un po' a conoscere, infatti c'è un... ci sarà una specifica lezione un po' sul suolo, come è fatto, come viene fuori, e tante altre cose. Io cerco di fare dei discorsi molto in generale per coinvolgere un po' tutti e dare delle indicazioni anche basilari a chi viene da altri settori. Non certo si dà per scontate che siamo tutti agronomi. Quindi andiamo avanti. La seconda parte del corso, la Terra Angelo passa l'acqua, il nostro amico, per quanto riguarda le esperienze, perché è una persona che ha avuto modo di conoscere in questi ambienti e ne sono entusiasta perché lui ha delle esperienze dirette molto più grandi delle mie e soprattutto delle esperienze pratiche e determinate, quelle proprio incisive dove tocchi con le mani tutti i problemi, tutti i giorni per mandare avanti il nostro orto giardino. Foresta giardino, un'altra cosa che volevo spiegare, deriva da un termine inglese, forest gardening. Perché questo? Perché ci troveremo con un altro termine più avanti che spesso utilizzeremo è quello di orto. In inglese orto non si usa tanto perché si usa il termine giardino e per loro giardino sia orto che giardino. Invece in italiano no, in giardino ci sono solo i fiori e le piante ornamentali. L'orto è quello utile per mangiare. Il garden o il garten con la T in tedesco è tutto insieme, sia orto che giardino. In teatro giardino, maine garten e poi vai a vedere ci attengono i cavoli. Invece uno pensava che nel mio giardino c'erano i fiori. Ce ne sono i fiori tutti intorno e magari dentro ci sono anche le piante di ortaggi e gli alberi da frutta. Questo sistema di coltivare tutte queste piante in poco spazio è venuto fuori da che cosa? Dall'urbanizzazione selvaggia. Perché dicevo anche prima con qualcuno fuori noi ci siamo trovati ad avere un aumento della popolazione umana con crescita esponenziale sapete tutti siamo tanti miliardi e ancora in aumento ma la superficie a disposizione del globo terrestre è sempre la stessa. Nel paleolitico nel neolitico dicevo nel sud Italia vivevano delle popolazioni umane di circa circa stimato 10.000 individui 10.000 individui spagliati su tutti i sud Italia oggi 10.000 individui le fa qualsiasi centro abitato e quindi diventa complicato per quelle persone il numero di individui trarre delle risorse da uno stato naturale ci vorrebbero 10-20 foreste amazzoniche e nemmeno ce la farebbero perché in Amazzonia non ci vivono 60 milioni di individui come siamo 60 milioni in Italia guardando solo al contesto dell'Italia se si volesse vivere solo di raccolta spontanea dai frutti perché anche in Amazzonia che tra l'altro ci sono andato per curiosità per vedere tutto quello che avevo sentito mi sono trovato davanti a questo problema cioè che è vero che è una superficie ricca lussureggiante enorme gli alberi da frutta e le risorse naturali sono rare cioè in una foresta se non riesci a trovare a conoscere a sapere i muri di fame perché gli alberi sono distanti tra di loro sono molto distanti e una volta che si è individuato un albero bisogna saper riconoscere il percorso e ricordare il percorso a memoria in una foresta tra l'altro spesso pianeggiante senza punti di riferimento dove si trova quell'albero sapere quando fruttifica andare là a raccogliere dei frutti e sono molto distanti come dicevo prima per il ciliegio selvatico nei nostri boschi gli alberi da frutta sono molto distanti tra di loro su superfici enormi si spende tutta la giornata infatti soltanto per cercare di raccogliere quello che si trova in giro l'orto è una concentrazione comoda facile veloce se si può irrigare alleluia ancora meglio perché è facile coltivare dove hai un terreno già pronto pianeggiante magari anche con un po' di disponibilità d'acqua l'acqua è un fattore limitante e ne parleremo spero abbastanza perché qui in Puglia so quanto è rara e preziosa e anche so perché l'acqua accelera la crescita delle piante quindi un aiuto con un po' d'acqua almeno nei primi anni o nei primi stadi di vegetazione a volte si rende indispensabile per alcune piante per altre piante ci sono altre strategie che poi Angelo ve ne parlerà molto bene più avanti allora prossima io ho fatto una specie di piccolo disegno cercando di assumere tutto quello che vi stavo spiegando c'è un giardino foresta giardino foresta che diventa anche giardino orto foresta dove bisogna tenere in considerazione gli elementi dicevo che che ci sono in alto su tutti ci sarà sempre il sole perché senza la luce del sole sappiamo la fotosintesi e tutti i processi vitali delle piante non possono avvenire nel nostro giardino per quanto sia limitato chiuso, recintato e protetto ci sono sempre da considerare gli animali del suolo o dell'aria insetti, uccelli quelli che siano perché loro si spostano e la nostra campana di vetro non ha sempre l'efficienza che vorremmo e ci sono piante ci sono spugli che a volte servono anche per lo spirito qui delle palme fuori contesto e fuori luogo sembrano apparentemente io trovo non lo siano fuori luogo perché noi in Italia abbiamo una palma spontanea che si chiama palma di San Pietro o palma nana palma nana o palma di San Pietro è una palma spontanea dell'area mediterranea questa palma che cresce a ciuffo molto simile a questa nel disegno è una pianta che crea un senso di armonia di bellezza di estetica il giardino l'orto non è solo qualcosa per essere utile alla pancia per essere qualcosa di indispensabile per la nutrizione ma a volte anche per gli occhi per la mente e per lo spirito ecco perché giardino e non solo orto quello di cui parleremo mettere insieme tutte queste componenti immaginate che sia un pino domestico o un grosso ulivo secolare questi degli alberi da frutta più piccoli ma adesso li vedremo nel dettaglio dei cespugli e poi fino ad arrivare dai piccoli ortaggi sempre andando avanti cosa facciamo cercheremo di scomporre tutto questo smontarlo e poi rimontarlo come si fa un po' con i motori chi ha a che fare insomma con piccole attrezzature o piccoli oggetti per conoscere come sono fatti anche per cambiare le batterie a un telecomando lo devi aprire devi togliere le batterie vedere dove sono orientate e poi rimontarle perché una cosa è spiegarlo e una cosa è farlo praticamente allora tutto questo si potrebbe assumere a un ecosistema e gli ecosistema già le strade cominciano a dividersi perché l'ecosistema è quello naturale funziona da solo va avanti da solo non ha bisogno di interventi dell'uomo e in condizioni naturali l'ecosistema si dice arriva allo stadio di climax il climax sarebbe uno stadio di tranquillità di evoluzione che però non è statica non è che rimane piatta nel tempo anche quella si evolve un bosco una foresta non è fatta sempre degli stessi alberi anche un prato ed è divertentissimo è bellissimo vedere che nei prati se avete un prato a disposizione potete delimitarne anche due metri quadrati e vedere che in quei due metri quadrati ogni anno nascono dei fiori diversi delle piante erbacee diverse e durante l'anno addirittura nascono piante e fiori diverse che prima non c'erano perché molte piante tra virgolette si nascondono nel terreno sotto forma di semi se addirittura il terreno viene rimosso si tolgono quelle di prima e ne vengono fuori altre e quindi tutto questo discorso fa parte dell'ecosistema e dell'evoluzione dell'evoluzione dell'ecosistema l'uomo con degli interventi drastici a volte fa delle involuzioni torna indietro nel tempo perché le pratiche agricole tendono tendono ad essere superficiali veloci sbrigative sempre il discorso dell'economia se andiamo nel discorso dell'economia non si può perdere tempo a mettere le piantine a una a una tutte belline tutte carine e coccolate no si piantano con una macchina che si chiama trapiantatrice meccanica ne pianta centinaia di migliaia al giorno e si fa tutto veloce poi non si può andare a tirare le erbacce che fanno sgomitate con le nostre piantine allora si passa con quelle porcherie che si chiamano diserbanti e si va avanti via di seguito nel nostro piccolo ambiente possiamo farne a meno e questo è il bello possiamo farne a meno di tante sostanze inutili la prima cosa che bisogna fare è scegliere queste piante e spero anche di questo di parlarne molto perché anche con Angelo siamo in perfetta sintonia su questa parte dove la ricerca delle piante è importantissima e ci allacciamo al corso precedente di chi ha seguito il corso di Seed Savers per quanto riguarda la scelta delle antiche varietà si ritorna a quel punto lì di partenza per chi non c'era lo accenno brevemente cioè se noi andiamo a mettere degli ortaggi e li andiamo a comprare sono piante estremamente delicate sono anche molto produttive però sono molto delicate se cerchiamo di trovare da qualche persona che ha più esperienza di noi qualche passionato qualche conoscente a volte anche qualche raro vivaio che coltiva piante di vecchia varietà possiamo provare con quelle è più facile per noi dopo avremo i frutti magari dopo qualche anno in più le vecchie varietà cominciano a fruttificare degli alberi mi riferisco anche dopo 6-7 anni in agricoltura meccanizzata invece gli alberi al terzo anno devono fruttificare se no si considerano non efficienti vengono eliminati al terzo anno anche con la vite si devono già avere i frutti invece con piante di vecchia varietà si deve avere un po' di più di pazienza la cosa bella anche in questo è che oltre l'esperienza la passione e la buona volontà si ha una sensazione di essere un po' a contatto con quelli che sono i tempi della natura bisogna rispettare i tempi della natura non si può correre in modo frenetico perché il mercato sta aspettando e se non vendi i prodotti questa settimana la prossima settimana ti scende il prezzo quella si chiama economia agraria è un altro paio di maniche e la fanno alla facoltà di agraria all'università alle scuole di agraria sono tutti specialisti a fare quelle cose e va bene serve per il nostro sostenimento ma nel nostro piccolo facciamo questo ragionamento qui una composizione diversa con vecchie varietà che siano resistenti e tutto diventa più facile anche per noi tornavamo al punto da cui ero partito cioè smontare tutto questo in un ecosistema che ho cercato di rendere abbastanza semplice e complesso però un ecosistema non è mai semplice semplice è sempre molto complesso la prossima diapositiva vi farà vedere una successione di queste piante non più messe in uno stato pseudonaturale ma in fila allora eccole qua si prende come esempio a proposito di forest gardening si prende come esempio i sette strati di una foresta che diventa in questo caso una foresta giardino in inglese lo strato più alto della foresta tropicale si chiama canopy tradotto in italiano non da me già stato tradotto canopia c'è lo strato arborio che copre tutti gli altri nel nostro caso perché poi voglio dare un risvolto molto pratico con piante nostre quindi nel nostro caso potremmo utilizzare noci, ciliegi, agrumi che sono alberi un po' più alti dove sotto si può tentare di coltivare degli arbusti o delle piante erbacee se queste vengono messe a una certa distanza perché se gli agrumi stanno troppo vicini cleano ombra completa sul suolo e quindi non si può più coltivare niente qui li abbiamo messi in fila per distinguerli per imparare a conoscerli per vedere quali sono i componenti quali sono gli strati che occupano che poi ci dobbiamo preoccupare di una cosa non è solo sopra la competizione è pure sotto con le radici è dato per scontato e l'altra cosa interessante che se si usano alberi della stessa specie un frutteto un frutteto omogeneo le radici non cresceranno più come sono in questo modo e non si intersecheranno più tra di loro ma si evitano perché per non andare in concorrenza cercheranno di crescere nella parte opposta se a fianco a destra e a sinistra ho dei peschi e io sono un pesco le radici andranno in questo senso avanti e indietro ma non a destra e sinistra e il pesco che sta al mio fianco andrà a sua volta a destra avanti e indietro e non a destra e sinistra si allontaneranno ci sono tanti esempi di questo tipo su internet a proposito delle tecniche culturali e invece se sono piante diverse le radici possono intrecciarsi perché? perché le radici di quegli alberi andranno a cercare sostanze nutritive diverse quindi non sono in competizione la luce invece è un fattore indispensabile chi più chi meno alcune piante si chiamano piante sciafile quelle che crescono all'ombra e quelle che crescono al sole si chiamano piante eliofile da Elios sole ma c'è anche un'altra cosa da tenere in considerazione tra gli ortaggi gli ortaggi che producono amido come per esempio le patate o i cereali hanno bisogno di sole sono piante erbace ma devono stare in pieno sole vogliono tutto per loro perché la sintesi dell'amido richiede sole quello che sta sempre in alto anche se qua non c'è il sole hanno bisogno di sole altrimenti gli zuccheri gli amidi che loro accumulano non possono essere prodotti in quantitativo sufficiente le piante producono spontaneamente i semi che servono alla loro riproduzione oppure producono dei tuberi che sono parti di fusto che servono alle crescite successive per esempio la carota la carota selvatica produce un seme si parte sempre dal seme cade nel terreno nasce una piantina ci mette circa un paio d'anni e poi fiorisce dopo che ha fatto la fioritura questi due anni come li passa durante l'estate durante il caldo durante il freddo sotto forma di tubero di rizoma di radice sottoterra sopra non si vede la piantina al massimo c'è una piccola rosetta di foglie nascosta nell'erba però quando arriva il periodo giusto dopo due anni esce una grossa infiorescenza anche alta un metro e venti e produrrà dei semi che diffonderà tutto intorno è un sistema per sfuggire alle avversità naturali gli altri alberi invece sono provvisti di fusto legnoso quindi hanno più persistenza più capacità di conservare l'acqua un altro fattore che vedremo più avanti e quindi possono superare i fattori avversi con produzione di legno oppure di cuticole nelle foglie però hanno delle foglie con delle strutture poi anche vedremo più resistenti quindi dicevo tra le piante erbacee e tra le erbustive abbiamo un ventaglio di scelta enorme per tutti i climi e per tutte le latitudini e questa è la grande ricchezza perché anche se viviamo in un ambiente abbastanza caldo o semi-arido possiamo sempre trovare delle piante utili per noi siamo in un ambiente mediterraneo dove gli scambi culturali e gli scambi commerciali al centro del Mediterraneo sono antichi di forse di 4.000 anni dai greci e dai fenici che hanno cominciato a scambiare semi e piante avanti e indietro e poi i contadini allevavano ciò che era più utile per loro allora dicevamo gli alberi canopi a noci e agrumi ciliegio poi arbusti corbezzolo nocciolo fichi d'india cioè quelli che arrivano all'altezza di circa 2 metri e mezzo 3 metri che anche l'agrume a volte arriva a 3 metri diventano quasi dello stesso tipo come gli agrumi dipende tutto come noi vogliamo impostare il nostro giardino ci piacciono le noci metteremo qualche noce magari sui bordi dove non danno fastidio ai confinanti dove non creano problemi d'ombra poi potremo scendere con un livello un po' più basso qualche agrume se abbiamo possibilità di un minimo d'acqua e poi ancora scendere con altri frutti naturalmente questi vanno vanno piantate queste piante con un criterio che io cercherò di spiegarvi poi se ci sono bisogni di approfondimenti sono sempre disponibili con criteri che sono strettamente indispensabili e necessarie all'esigenza della pianta il fico d'india ha bisogno di luce va bene vicino a un muretto a secco se il muretto a secco è esposto a sud ad esempio se questo è un muretto e il sole mi passa da questa parte est ovest e qui è sud il fico d'india sta bene da questo lato guarda verso sud nel lato opposto del muretto a secco specialmente se è alto due metri due metri e cinquanta potrebbe andare bene un nocciolo che è una pianta che ha bisogno di climi di ambienti un po' più freschi più umidi quindi nella parte opposta dello stesso muretto e questo va un po' affinato con la pratica con le esperienze con i consigli di chi ne sa di più sempre chiedendo e scambiando informazioni io ho un muretto mentre il fico d'india ma è meglio metterlo a sud oppure il nocciolo sì ma se il nocciolo lo mette alla parte a sud è difficile che in Puglia riesce a crescere così altrettanto rigoglioso come crescerebbe nella parte rivolta a nord oppure nella parte a mezz'ombra dove l'albero di noce prendiamo sempre il noce come esempio perché è uno degli alberi della frutta più grande dei nostri ambienti dove l'albero di noce produce ombra per metà giornata quella si chiama posizione a mezz'ombra perché durante la mattina magari c'è il sole e poi da mezzogiorno al tramonto ci sarà l'ombra o viceversa ci sarà l'ombra di mattina e non di pomeriggio poi gli alberi e i cespugli bassi i cespugli bassi in questo caso potrebbe essere l'uva a spina non so quanti la conoscono comunque è un arbusto che arriva intorno a un metro siano di altezza e produce dei frutti che sono proprio come l'uva quasi pure lo stesso sapore anche se è della famiglia dei ribes però i chicchi sono grossi come l'uva è resistente al caldo in condizioni ideali naturalmente non parliamo di piante da deserto e c'è di molte varietà a chicchi neri quindi come l'uva nera a chicchi bianchi arancione eccetera lo strato del bacio sono gli ortaggi vari quelli di cui parlavamo prima tutti gli ortaggi crescono a livello del suolo in situazioni in altezze molto limitate dai cavoli alle rape alle cipolle eccetera e poi lo strato della rizosfera credo che c'è qualche errore qua reosfera è saltata qualche lettera ma quella si chiama rizosfera cioè fatta da rizomi tutte le piante che vivono sotto come le patate o anche gli alberi o anche le piante da fiore come per esempio gli iris che producono dei rizomi rizosfera poi ci sono le piante di copertura del suolo che si potrebbero utilizzare come il melone e la zucca e qua cominciamo a venire fuori un'altra storia zucca e melone sembra che abbiano bisogno di acqua sì è vero ma con opportune tecniche culturali con anticipi di semine con tecniche di cui Angelo vi parlerà nel dettaglio si possono coltivare anche zucca e meloni che tra l'altro anche in quel campo ci sono zucca e meloni di ambienti aridi non dobbiamo pretendere di avere dei meloni da 18 chili perché il melone selvatico cresce in Namibia l'anguria mi riferisco quella rotonda rossa cresce in Namibia in zone desertiche o semi desertiche ai limiti del deserto e questa pianta in quegli ambienti sabbiosi tra l'altro completamente aridi asciutti vive per un intero anno sotto forma di seme nella sabbia sparpagliato lì durante le rarissime piogge la pianta germoglia cresce e produce frutti che poi vengono divorati dagli animali di passaggio e vengono sparpagliati i semi tutti intorno quindi melone è una pianta che arrivi da ambienti desertici quindi diciamo melone e zucca e poi lo strato verticale l'ultimo fatto da rampicanti che possono essere rampicanti di gusto di utilità estetica oppure come in questo caso di utilità alimentare come vite kiwi e passiflora vite in questo ambiente sappiamo tutti è facilissimo non ci sono tanti problemi l'unico consiglio che poi darò anche in seguito è di utilizzare varietà resistenti alle malattie perché anche nel campo delle viti ci sono tante piante che possono crescere senza neanche il solfato di rame tra l'altro il solfato di rame è un prodotto usato anche in agricoltura biologica perché non è tanto tossico va bene di qua e di là però ci sono delle viti che non hanno bisogno neanche di quello un minimo di potatura se la si vuole fare ma io ho anche delle viti che crescono spontanee su degli alberi che ci sono andate per caso ai margini dei campi e producono dell'uva sugli alberi di pioppo senza neanche potatura la differenza i grappoli sono a 10 metri dal suolo è un po' più complicato raccoglierli ma sono grandi come quelli coltivati e sono un po' più radi perché c'è un grappolo di qua e un altro sta di là e noi ce li abbiamo tutti vicini a portate di mano quindi vedete ci si può divertire ci si può spaziare come ci pare la passiflora la passiflora ne esistono diverse specie la principale quella più utilizzata nei nostri giardini è di uso ornamentale ma i frutti sono anche alimentari ma non hanno un gran sapore poi c'è la passiflora edulis che è un po' più tropicale va bene per la fascia degli agrumi quindi lungo le coste nelle zone dove non ci sono gelate d'inverno che ha dei frutti che sono buonissimi a chi piacciono naturalmente sono quelli che usano per fare i succhi di frutta quando c'è scritto quei succhi di frutta con scritto passion fruit è la passiflora si può coltivare anche in Italia nelle zone idonee andiamo avanti allora questo è il clou di tutto il nostro discorso il nostro giardino stavolta è finito in mezzo a questo cerchio in alto c'è il sole e poi qua sopra ce l'ho dovuta rifilare una formula chimica che io ho sempre ho sempre detestato la chimica e la matematica specialmente applicata alla natura mettere la natura dentro delle griglie è come costringere un animale feroce a stare in gabbia prima o poi scappia o comunque crea dei danni però qui abbiamo una piccola formuletta che non è importante che venga tanto approfondito e ve la spiego veloce perché questa formuletta praticamente è la base della grande industria che fanno le piante la fotosintesi io dico sempre quando trovo a scuola i ragazzi che l'industria la fabbrica che sta dentro una foglia è più grande di qualsiasi stabilimento industriale che esiste sulla faccia della terra e ancora forse per fortuna nessuno è riuscito pure a copiarlo non ci sono macchinari non ci sono attrezzature che fanno la fotosintesi lo possono usare solo le foglie piccole o grandi che siano respiriamo ogni istante della nostra vita e quindi bisogna dire grazie al sole la mattina quando esce e alle piante quando fanno la fotosintesi perché senza l'aria non avrebbe senso né la nutrizione né tutti i nostri e i miei discorsi questi elementi li ho fatti sotto forma di alberi perché abbiamo degli elementi principali i primi sono i componenti quelli che vedremo stamattina li cercheremo di disassemblare uno a uno per poi metterli insieme alla fine del nostro discorso i componenti che dall'esterno arrivano nel nostro giardino poi ci sono le emissioni e qua ho usato delle piante grasse sia per le emissioni sia per le manutenzioni perché immettere e fare manutenzione a volte diventa una situazione spinosa e quindi ecco perché piante grasse diventa spinoso perché si può immettere di tutto ma non sempre quello che si immette è così semplice tra le emissioni abbiamo tutti questi elementi qua la manutenzione ancora più spinosa perché alcune pratiche di questa manutenzione possono essere discusse e possono essere tralasciate come per esempio sfalciare o potare o rimuovere il terreno io avevo scritto sotto sotto in trasparenza dove occorre perché giusto per dare l'indicazione che non è sempre indispensabile ci sono tante tecniche che prevedono la rimozione del terreno e la si può provare nel nostro nel nostro giardino possiamo provare di tutto è un campo sperimentale dove ci si può divertire se abbiamo delle conoscenze a priori è bello perché avremo prima i frutti se abbiamo delle delusioni non c'è da scoraggiarsi mai perché comunque ci arriveremo con un po' di tempo in più non bisogna avere mai fretta ricordate questa cosa importantissima con la natura non bisogna avere fretta quando si pianta un albero e lo si mette in un terreno e lo si aiuta o non lo si aiuta ci vogliono tre anni per dire se quell'albero è attecchito o no eh ma poi che posso aspettare tre anni mi risponde qualcuno eh invece ci vogliono tre anni viene da un vaso viene dall'elavvento da un vivaio da ovunque sia le radici sono tutte là compatte finché le radici si allungano si disperdono alla ricerca di nutrienti ci vogliono almeno tre anni in ambiente mediterraneo superare la prima estate è la cosa più traumatica e peggiore che esiste la più difficile la seconda un po' così così alla terza estate superata si può dire abbiamo una piantina quindi tre anni solo per dire se è attecchito immaginate poi tutto il resto per farlo crescere quanto tempo ci vuole con le ortive è più veloce basta un ciclo di coltivazione una stagione e si vede subito come va manutenzione poi abbiamo la produzione un grosso albero con tanti rami più o meno spessi l'ossigeno più spesso naturalmente i funghi più sottili perché i funghi sono uno dei sottoprodotti che non sempre si può ottenere non è allo stesso modo facile dove ci sono tanti elementi che noi possiamo trarre questi sarebbero tutti i nostri vantaggi tutto ciò che possiamo prendere come beneficio dico tutto ma in realtà ce ne potrebbe anche essere di altro ho trascurato le fibre tessili perché suppongo nessuno si metterà a tessere le proprie piante di canapa o di lino che coltiverà ma ce n'è dalle piante insomma ce n'è di tutto da tirare anche le piante medicinali e officinali sono saltate perché al di là di una camomilla o di un tè fatto con la menta è complicato utilizzare le piante officinali e medicinali se non si conoscono bene la loro funzione si rischia di avvelenarsi o intossicarsi quindi al di là di una semplice camomilla diciamo di piccoli infusi poi o le marmellate ma quelle ci sono poi le opportunità le opportunità un altro albero con rami lunghi e disparati perché? perché le opportunità sono tante sono diverse noi i benefici che possiamo trarre da un giardino dalle piante praticamente sono immense non si possono raccogliere in due semplici disegni e qualche schizzo con dei rami ce ne sono all'infinito ognuno può andare nella direzione che preferisce e avere come opportunità o come produzione quello che più ama fare le marmellate alberi da frutta fare le conserve ortaggi spiritualità tanti bei fiori tante piante che fioriscono durante tutto l'anno è possibile specialmente in clima mediterraneo nella fascia degli agrumi cioè dove crescono gli aranci quelle zone che poi vi farò vedere un po' più avanti nel dettaglio allora cosa succede qua in questa formula c'è scritto 6H12O6 più 6CO2 più luce ci danno questa freccia qua C6H12O6 più 6O2 allora in parole povere H2O è l'acqua e sta qui CO2 è l'anidride carbonica e sta qua più luce il sole sta qua quindi i primi tre elementi acqua luce è l'anidride carbonica messi insieme sotto la luce del sole perché qua non si fa niente all'oscuro ci danno C6H12O6 che è uno zucchero più ossigeno in questa piccolissima formula vi assicuro che è piccola perché le altre sono tutte più complesse in questa piccolissima formula ci sono racchiusi i segreti della nostra vita partiamo da elementi semplici come l'acqua l'anidride carbonica è un gas velenoso sappiamo tutti inutile che lo spiego è il sole che non è bello solo per abbronzarsi ma è indispensabile per innescare questo meccanismo che con la clorofilla elemento che sta all'interno delle foglie le foglie sono verdi perché contengono un pigmento che si chiama clorofilla questa clorofilla è un colorante tra virgolette naturale verde a volte questo pigmento è coperto da altri pigmenti da altri colori per cui le foglie possono apparire anche di colore rosso violaceo se è bianco non c'è niente non so se avete presente quelle piante con le foglie variegate di due o tre colori bianche, rosa e verdi la parte bianca della foglia è un'aberrazione fatta per gusto estetico ma non fa fotosintesi sta lì solo come supporto ma non è funzionale non è attiva è spenta quindi la parte verde con la luce del sole innesca questo meccanismo e lo dà alla pianta spontaneamente senza pagarla e senza ringraziarla basta che si scioglie la mattina c'è l'acqua e l'anidride carbonica l'acqua è un fattore limitantissimo in ambiente mediterraneo il sole ce n'è in abbondanza l'anidride carbonica grazie all'industria pure quella è in esuberanza infatti si pensa e si prevede che le piante che cresceranno in questo millennio in questi ultimi decenni saranno più ricche di carbonio nei loro tessuti perché c'è maggiore quantità di anidride carbonica nell'atmosfera ma non è una cosa grave di cui preoccuparsi secondo me piuttosto è importante preoccuparsi di avere molte piante che facciano tutto sto lavoro avere sempre più piante è sempre più bello ed è sempre più utile al di là delle specie e dei nostri gusti perché perché se noi produciamo rifiuti scarti come l'anidride carbonica dobbiamo anche preoccuparci che qualcuno questi rifiuti li ricicla e riciclare l'anidride carbonica al giorno d'oggi è impensabile con quei sistemi che ogni tanto tirano fuori le industrie petrolifere di mettere l'anidride carbonica nelle cavità sotterranee da dove hanno estratto il gas e il petrolio primo perché con i movimenti tettonici prima o poi usciranno fuori quindi è come se tu fai un deposito e poi lo liberi anche tra qualche decina di anni o qualche migliaia di anni ma comunque verrà fuori perché l'anidride carbonica è un gas e non si può comprimere più di tanto e non si può conservare all'infinito e poi perché la produzione dell'anidride carbonica sarà sempre e in costante aumento non ci possiamo illudere di sperare che tutti quanti diventano ecologisti e tutti quanti diventano riduttori dell'anidride carbonica io non ho tanti anni ma mi ricordo benissimo ai primi anni 90 tra l'altro sono socio WWF quindi faccio campi di educazione ambientale con il WWF un po' sul pollino dove capita si parlava di ridurre l'anidride carbonica attraverso l'utilizzazione di motori più efficienti e di minore cilindrata dagli anni 90 ad adesso sono usciti tanti di quei SUV da 2.500 a 3.000 di cilindrata che sembra una cosa da pazzi è una corsa folle nel 90 un motore di 2.500 di cilindrata ce l'aveva un furgone che portava delle merci quindi faceva un lavoro enorme perché dava un reddito adesso il 2.500 di cilindrata o 2.500 di cilindrata qualsiasi motore turbodiesel ce l'ha un fuoristrada per andare a fare caccia pesca e sport per andare a passeggio il bambino alla scuola sì bravo così quindi io devo ragionare lo dico ragazzi lo dico per me perché devo ragionare con quella che è la situazione attuale la nitride carbonica crescerà sempre il clima farà dei salti pazzeschi specialmente nel sud Italia ci si parla già di desertificazione o di inizio di processi di desertificazione e non sono teorie negli anni negli inizi degli anni 90 che a me sembra l'altro ieri si parlava di ridurre il gas serra si parlava di desertificazione che il cambiamento climatico fossero ancora degli allarmismi da ambientalisti e invece cavoli dopo 20 anni si è visto che certe tempeste vicino Taranto mi pare l'anno scorso c'è stata una tromba d'aria quando mai si è vista la tromba d'aria a Taranto io ci passo per venire qui e si vedono ancora gli alberi tutti spezzati questi eventi estremi sono in aumento perché è aumentata la temperatura la nitride carbonica sapete produce l'effetto serra se volete posso approfondire anche l'effetto serra ma ve lo dico velocemente tanto per scontato che è una cappa di gas di gas tossici tra l'altro che non permettono la rifrazione del calore terrestre verso l'atmosfera più alta quindi è come se sulla nostra atmosfera ci avessimo messo un bel telo di plastica e abbiamo fatto una grossa serra e tutto ciò che produciamo ce lo teniamo cosa facciamo? non ci disperiamo non bisogna mai arrendersi mai dire eh vabbè ma tanto non ci possiamo fare niente con la Cina che ha tutte le centrali a carbone farà tanto di quella di carbonica non finisce più tutti i paesi in via di sviluppo loro poveracci fanno quello che noi abbiamo fatto nel 1800 la nostra esplosione tecnologica e industriale noi l'abbiamo fatta nel 1800 quando ci sono state le macchine a vapore sui nostri boschi sui nostri monti sono stati tagliati anche gli alberi piccoli di dimensioni di 10 cm di diametro perché erano quelli più utili per farne carbonella vegetale come la carbonella che si usa per il barbecue solo che era utilizzata per le macchine a vapore nelle prime industrie dell'ottocento e hanno distrutto e hanno raso al suolo tutto poi ci hanno pascolato e sono venute fuori queste bondagne tutte spelacchiate io la chiamo così perché non è un paesaggio naturale quello che abbiamo in Europa è un paesaggio modificato antropizzato e rivoltato come un calzino in Europa gli ambienti naturali andiamo a fare la visita al parco del Pollino in ambiente naturale ma che ambiente naturale i boschi più naturali che ci sono l'ultima volta sono stati tagliati 40 anni fa e adesso sono tagliati un'altra volta li stanno tagliando di nuovo però per fortuna con criteri diversi però comunque ci stanno mettendo le mani sopra quindi di naturale non c'è quasi niente le fiumare i calanchi sono ambienti stravolti che si chiamano dissesto idrogeologico tagli tutto a monte poi ci pascoli poi ci metti qualche incendio ogni tanto così per far crescere l'erba per le pecore per i pastori mandi avanti un'economia che si chiama economia rurale di pastorizzi allevamento però intanto distrugge un territorio tutta l'area del Mediterraneo intorno al Nord Africa è stata desertificata in questo modo prima a partire già da 2000 anni fa con piccolo allivamento e poi sempre di più per la crescita demografica della popolazione non possiamo fare come i cinesi di insomma limitare pure la crescita però comunque possiamo indirizzare le nostre scelte in tante direzioni diverse e vi assicuro che a differenza si fa dal piccolo compostaggio domestico di riciclare cioè i rifiuti se abbiamo la possibilità di avere un giardino un angolino dove metterci i rifiuti organici e non riempire i sacchi della spazzatura a quintali a tonnellate già è qualche cosa e poi fino alla coltivazione del nostro orto quella a cui arriveremo alla fine di queste lezioni dove se ognuno si vuole cimentare e non va se quanti siamo qua non andassimo a comprare frutta perché ce l'abbiamo nostra come sono riuscito ad averla io scusatemi tanto non è poco tra le opportunità c'è questo a qualcuno può interessare risparmio economico non è una passeggiata la frutta e la verdura costa una botta ed è piena di schifezza prodursela in proprio con un buco magari con una larva dentro non è una cosa gravissima non c'è da non c'è da avere aberrazione se nella frutta c'è un vermiciattolo prendi il coltello lo togli e ci fai un po' di compost e un po' di macedonia e alleviamo anche lombriche a volte nel nostro compost per cui un lombriche grosso così per un verme tanto piccolo così uno dice oh che schifo ma è un vermiciattolo è piccolo è biologico pure quello non ce lo mangiamo giusto perché la nostra cultura non ce lo consente però a proposito di alimentazione ci sarebbe tanto da parlare perché noi per esempio mangiamo degli animali che in natura sono tra i più schifosi che esistono le cozze sono dei filtratori filtrano le porcherie le schifezze del mare ma se il mare era come nel 1700 andava pure bene ma dopo l'esplosione demografica con tutte le fogne con tutte le industrie le cozze filtrano quella roba lì sono buone anche io le assaggio intanto le mangio perché sono buone però ogni volta che faccio un boccone dico mo ci sarà cadmio e forse mo c'è un po' di piombo e forse mo c'è un boccone di qualche altro metallo pesante perché sono accumulatori e filtratori invece degli animali più puliti vegetariani assoluti solo al pensiero ci viene l'aberrazione gli insetti proteine un po' di chitina i gamberi i gamberetti rossi hanno la stessa struttura di un insetto solo che sono un po' più succulenti vengono dall'acqua e quindi siccome vengono dall'acqua sono puliti ma quelli stanno in un'acqua che non si sa manca cosa prendono la sopra poi sono da allevamento i gamberetti rossi sono da allevamento per cui gli rifilano tutto quello che c'è negli allevamenti tale e quale come i polli o le mucche invece gli insetti ancora non li alleva nessuno ma tuttavia sono degli animali erbivori che non hanno sostanze di un certo tipo non sono almeno dei filtratori che filtrano e accumulano schifezze però la cultura quella va piano piano avanti non è che si può saltare da un giorno all'altro e diventare insettivori allora dicevamo andiamo avanti questo è il nostro ecosistema questo ecosistema tra l'altro vi ripeto è artificiale è artificiale teniamolo in considerazione è artificiale perché c'è tutto questo la manutenzione e le emissioni che sono continue o le chiamiamo manutenzione o le chiamiamo sgobbare lavorare sotto il sole ma comunque qualche controllo qualche cosa andrà fatta perché dipende tutto da quanto noi vogliamo ottenere se ci accontentiamo di poco riduciamo emissioni e riduciamo manutenzione non si zappa ok si può fare però avrai dei risultati di un certo tipo se intervieni dando un po' d'acqua ripulendo il polterreno una sfalciata dovevi sfalciare l'erba aiuta un po' di più perché quello che tagli tra l'altro lo lasci subito a terra il processo di decomposizione avviene più velocemente non devi aspettare che una pianta erbacea ha un ciclo di una intera stagione o due e poi secca e poi dopo che è seccata devi aspettare che cade al sole e venga decomposta la sfalci la tagli e il processo è un po' più veloce nel nostro piccolo va bene si può sfalciare poi lo vedremo con tanti sistemi anche naturali senza inquinare andiamo avanti esempi di giardini foresta io cerco di fare tante divagazioni così come sono quei rami di quelle strutture là che ho disegnato perché la natura è così è complessa ti porta in tante direzioni diverse puoi scegliere la strada che vuoi puoi andare ovunque sopra e sotto la superficie del suolo giardino foresta si può partire da un esempio del genere questo è un giardino subtropicale ma potrebbe anche essere mediterraneo perché il banano in Sicilia lungo le coste della Calabria ci cresce cresce anche nell'interno però non produce frutti è soltanto per gusto estetico da me invece in Sicilia mi hanno detto che produce anche degli ottimi frutti anche se sono più piccolini quindi banano e delle aiuole frutti e alberi di vario tipo delle aiuole si parte con delle aiuole se vogliamo delimitare se vogliamo circoscrivere se abbiamo un'impronta architettonica delimitata adesso esistono anche gli architetti del paesaggio quindi il paesaggio lo prende l'architetto te lo squadra te lo allinea te lo stilizza e tu dopo ci lavori dentro va bene se lo vuoi in quel modo va bene dopo qualche anno si avranno risultati di questo tipo sono degli esempi indicativi ma i risultati sono questi allora cosa facciamo riproduciamo quella che era la nostra foresta la foresta non è una una cappa continua di alberi tutti con la stessa altezza e tutte con la stessa copertura nella foresta a volte ci sono le radure ne avete sentito parlare le radure o i prati le radure e i prati sono prodotte da evoluzioni naturali o da animali e uno di questi animali che produce le radure nei boschi una volta era anche l'uomo per le popolazioni che noi chiamiamo primitive ma quelle non sono tanto primitive vivevano nella foresta producendo delle rature cioè vivevano in un posto dove intorno cacciavano e raccoglievano quando le risorse all'intorno erano limitate e andare a caccia richiedeva tre giorni di andata e tre giorni di ritorno conveniva prendere tutto l'accampamento e spostarsi nel neolitico nel paleolitico tutte queste cose le abbiamo fatte anche noi i nostri progenitori si andava a caccia ci si spostava è finito tutto questo perché adesso c'è la sedentarietà e c'è la coltivazione di ambienti molto limitati e si ritornano alle nostre aiuole nelle nostre aiuole si lasceranno crescere delle piante erbace circondate intorno da alberi di strati diversi sempre per tutti i nostri gusti alimentare o spirituale intendo spirituale estetico in quel senso lì e si possono organizzare le aiuole in base ai nostri sempre ai nostri gusti al nostro piacimento però se si tiene in considerazione l'esposizione del sole i venti il terreno e anche la natura del suolo è meglio si evita di fare degli errori tipo fare delle aiuole come in questo senso vedete questa foto l'ho scelta perché le aiuole sono irregolari hanno tutte forme diverse e sono distribuite in modo sparpagliato anche se al centro ci sembra che ci sia una struttura a forma di stella in un ambiente tranquillo dove non ci sono venti dominanti va bene è anche una cosa del genere ma se ci sono venti dominanti attenzione ai nostri aiuole perché non le possiamo allineare secondo la direzione del vento altrimenti diventeranno dei corridoi di vento dove sarà molto complicato allevare delle piante ci si può difendere come per esempio con delle barriere frangivento il frangivento in Italia è pensato soltanto con alberi grandi e ingombranti di solito si usano cipressi ed eucalipto cipressi perché hanno una ciuma molto compatta non passa niente e eucalipto perché cresce velocemente e riesce a frangere il vento nel nord Italia si possono usare tigli, platani o pioppo cipressino che fanno delle barriere e va bene io consiglio da naturalista facciamo le barriere sì ma facciamola anche con qualche pianta utile mettiamoci qualche noce qualche ciliegio che cresce un po' di più e facciamo un frangimento misto, variegato da cui traiamo anche dei vantaggi questo è lo scopo di quello che vorrei trasmettervi cioè farne del nostro giardino qualcosa di bello ma utile se si riesce a unire bellezza con utilità abbiamo fatto una grande ricerca una grande abbiamo avuto dei grandi risultati allora esempi di giardino e foresta ce ne sono altri questo sembra un semplice orto con delle zucche ma a fianco ci sono dei fiori molto spesso coltivare dei fiori tipo crisantemi o lavanda possono avere effetto deterrente contro gli insetti dell'orto poi tutto intorno a questo orto non industriale c'è dell'erba c'è del prato vedete neanche nelle aiuole è stato pulito tanto un minimo di manutenzione io la consiglio perché serve a far partire prima le nostre piantine quando prendiamo le nostre piantine di antiche varietà o moderne che siano le mettiamo in un terreno verranno facilmente sopraffatte come dicevo prima allora dobbiamo darle una sprint uno sprint un aiuto che può essere quello di mantenere le piante erbacee un po' più in basso e le piante domestiche le piante coltivate un po' più in alto perché hanno bisogno della luce per avvantaggiarle sono delicate loro non è il problema qua complicato perché la natura è cattiva tutte quelle cose lì è che le piante che sono delicate la stessa cosa con gli altri ortaggi per esempio ultimamente è stato scoperto che anzi no non è stato scoperto viene cercato di diffondere questa idea di fare intorno all'orto delle barriere vegetali delle barriere vegetali forse ci sarà qualche foto più avanti con degli steccati fatti da rami intrecciati oppure stesso con piante ortive per esempio intorno al nostro orto di faccio un esempio tanto per uno per tutti di pomodori che possono essere attaccati facilmente dalla cimice verde si possono mettere delle barriere di fagioli così fagioli 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 o mais che sono piante un po' più alte i fagioli rampicanti sono piante un po' più alte e se messe tutti intorno possono fare da schermo oppure se si preferisce questo schermo si può fare con delle ramaglie dei rami intrecciati perché sembra incredibile ma gli insetti volano a bassa quota anche se hanno la possibilità di andare in alto sono troppo leggeri per cui se vanno a una certa altezza a due metri di altezza basta un colpo di vento e li dirotta possono essere dirottati da un minimo alito di vento quindi volano a bassa quota e a bassa quota si intende a un metro o anche meno da terra si spostano da un posto all'altro se trovano dei punti utili per la loro alimentazione come l'orto emanano delle sostanze chimiche ormoni feromoni dove attirano i loro congeneri e quindi ne fanno dell'orto un punto di incontro come la discoteca come la spiaggia si fanno proprio così si divertono alle nostre spese perché noi abbiamo prodotto un ambiente innaturale cioè abbiamo prodotto una concentrazione di piante tutte nello stesso posto cosa che in natura non esiste ricordate sempre il fatto delle piante sono lontane e sparpagliate in ambienti molto grandi quindi la concentrazione diventa pericolosa tra gli insetti e ci si può difendere con tanti sistemi ci sono tanti insetticidi tra virgolette naturali fatti con infusi di piante come per esempio io per le cimici per le cimici sui pomodori uso l'infuso di ortica fatto con radici di ortica l'ortica che è una pianta abbastanza comune invadente in certi posti si è messa a macerare in acqua dopo circa dieci giorni al sole produce un odore una puzza ma così fetente che sembra che là c'è una fogna ce l'ha aperto è brutta è brutta però è meglio del piretro secondo me ed è meglio del decis e di tutte quelle altre schifezze che ci rifilano che ci rifilano attraverso l'industria chimica e poi la cosa bella però di questa puzza che evapora velocemente mantiene lontano le cimici basta solo spruzzarle basta prendere un mazzo d'erba intingi là dentro due fili di pomodori come questi o quattro che siano ci dai una spruzzata sopra come prevenzione cioè le cimici non ti devono essere già arrivate nell'orto ai grandi frotte perché se no poi dopo è difficile stanarle bisogna catturarle altro sistema prendersi la pazienza e catturarle il nostro piccolo orto che può essere controllato io lo controllo così lo faccio in questo modo e sono arrivato anche a certi giorni a mettermi così e aspettare le cavolaie proprio tre giorni fa c'erano le cavolaie che deponevano le uova sui cavoli e se è una sola farfalle niente ma ce ne erano quattro quattro farfalle ognuno di loro deporre qualcosa come 80 uova che diventano 80 bruchi famelici e quelle del quattro file di cavola erano diviso 80 se le mangiavano tutte qua allora mi sono messo là e ho guardato la cavolaia si è andata a posare su una certa pianta ho segnalato quel filare con un bastone e poi per non aspettare che deponesse tutto perché ci ha messo mezza giornata mi scocciavo me ne sono andato sono andato dopo due tre giorni e ho eliminato quel pezzetto di foglia con le uova portandone dall'altra parte se volete vivere andate a vivere ma un po' più in là c'è tanto spazio non è che dovete vivere per forza il mio orto quindi si può fare di tutto le cimici quando arrivano in frotte ed è difficile ormai frenarle con l'infuso di ortica puzzolente si catturano si catturano e a me dispiace schiacciarle perché poveraci poi puzzano pure però li metto dentro un barattolo una bottiglia ne faccio una raccolta e poi li porto a disperdere in boschi più lontani insomma che per arrivare nell'orto ci mettono mesi quindi non tornano più poi se uno vuole essere cattivo lo può portare proprio negli orti dei vicini e gli fa e quello è proprio un sabotaggio è un sabotaggio agricolo e quindi si possono essere tante tecniche dove si può avere rispetto ragazzi la cosa importante è avere rispetto per le creature e le forme viventi se hai un approccio di rispetto e non pretendi la natura sarà generosissima io dico sempre con mia moglie che mia moglie è una biologa mi ha aiutato a fare tutto questo powerpoint a cui ci ho dovuto dividere pure i guadagni comunque ho dovuto dividere perché insomma ha fatto un lavoraccio lei era biologa l'ho trascinata a vivere in campagna e poi quando insomma ogni due o tre ricordiamo sempre questo fatto che noi quando andiamo a fare la spesa c'è una soddisfazione enorme non andiamo con una busta soppesata di quattro verdure che le porti con un dito ma andiamo con la carriola nell'orto andiamo con le cassette di plastica nell'orto e usiamo i nostri prodotti come prodotto di regalo per gli amici andiamo a trovare degli amici non gli portiamo i moscheri perché noi non coltiviamo cacao gli porto un vassoio di ciliegie quando sono le ciliegie oppure un cassetto di pomodori quando ci sono i pomodori e chi lo apprezza per chi lo apprezza è bello c'è anche persone che vorrebbero fare una bottiglia di whisky ma ancora non distilliamo niente a parte qualche liquore di amarene così però lo usiamo per quelle persone quegli amici che apprezzano questi prodotti che magari non hanno la possibilità di coltivarli specialmente per chi ha bambini vi assicuro che è bello un succo di frutta fatto in casa o un cesto di frutta fresca comunque è un prodotto che ha un valore altissimo e se vogliamo misurare il valore del nostro prodotto questa è una cosa importante su cui ci si potrebbe tornare mille volte quanto vale il nostro ortaggio un euro al chilo il biologico lo fanno pagare un po' di più commercialmente è una strategia perché dice costa di più se ne ottiene di meno vabbè fanno quello che vogliono ma il prodotto industriale mele pere fragoli tutta sta roba qua al chilo ha dei prezzi ridicoli pazzeschi le albicocche 15 centesimi al chilo raccolte dal campo a parte le ciliegie e le castagne che hanno dei prezzi un po' più elevati o le noci le mele per quando siano golden per quando siano trentine in campo costano sempre 20 centesimi al chilo 20 centesimi al chilo cioè è un prezzo assurdo questa cosa mi fa arrabbiare mi fa incavolare moltissimo rimanendo a proposito di cavoli perché si deve produrre tantissimo per soddisfare tutti e poi si fanno ad ottenere dei prezzi stracciati e qualche anno fa c'era anche il macero vi ricordate con le arance facevano tonnellate di arance in più poi siccome il prezzo crollava andava al di sotto di quei 10 centesimi al chilo si raccoglievano e si portavano a macerare oggi si è superato questo sapete come? lasciandolo direttamente sulle piante è pazzesco bravo un meccanismo perverso lasciamo perdere tutti questi fanatici e cerchiamo di ragionare il nostro orto il nostro orto compreso un po' anche con una visione un po' romantica come l'orto medioevale racchiuso intorno a delle mura dove noi produciamo il nostro fabbisogno l'autosufficienza alimentare almeno per quando riguarda frutta e ortaggi perché già produrre l'autosufficienza alimentare con il grano bisognerebbe avere degli spazi un po' più grandi e per chi è possibile lo può fare io ogni tanto noi mettiamo del grano e anche lì è venuta una storia che non ha fine sembra la storia infinita quel film bellissimo degli anni 80 cioè noi coltivavamo un grano che si chiamava cappello o senatore cappelli è un grano di molte ci sono molte varietà di senatore cappelli è un grano che fa alto un metro e cinquanta così ed era utilizzato sto grano senza sapere perché ma tutti mettevano sto grano e andava bene sono innescati i meccanismi perversi l'economia che mette le zampacce nell'agricoltura davano i contributi se mettevi negli anni 80 se mettevi il grano di varietà simeto il simeto o altre varietà moderne diventano 50 centimetri e dicevano meno paglia che tanto non ti serve più prodotto più grano e tutti hanno messo il simeto e il prezzo del grano è crollato pure quello andava a prezzi intorno a 10.000 lire 15.000 lire al quintale che erano prezzi stracciati pure per il grano è crollato il prezzo ma è successa una cosa catastrofica per noi che coltivavamo un ettaro di grano e non sono un grande produttore perché io ragiono sempre in termini di una piccolissima la chiamano azienda dal punto di vista fiscale ma dal mio punto di vista è un grosso giardino 4-5 ettari tutto là è un grosso giardino dove un ettaro di frutteto sparpagliato un ettaro di cereali messo una volta qua una volta là con le rotazioni e mezzo ettaro circa di ortaggi diviso in mezzo ettaro diviso in metà ortaggi per l'inverno e in metà ortaggi per l'estate sempre con le rotazioni mettendone i punti più disparati perché questi poi sono segreti insomma da tenere in considerazione allora cosa abbiamo fatto con questo grano è venuto fuori questo grano basso in terreni di collina in basilicata su suoli argillosi l'erba diventa un metro e trenta in media il grano 50 centimetri abbiamo fatto un'ottima produzione di fieno paglia e fieno e questo per due o tre anni poi se ne sono venuti dicendo che tanto va bene non c'è da preoccuparsi ci sono i diserbanti e lì abbiamo toccato proprio il fondo delle schifezze delle catastrofi naturali che potevano accadere io parlo in questi termini così perché dal mio punto di vista naturalistica è una catastrofe quando abbiamo messo il diserbante una sola volta l'abbiamo usato negli anni 80 verso l'82-83 e siccome ero ragazzino mi arrampicavo sugli alberi per andare a vedere gli stadi di crescita dei pulcini dei nidi acidi degli uccellini nei nidi sapevo i nidi che stavano intorno a casa di passeri di fringuelli e sapevo i nidi dove erano con le covate a che punto stavano quindi andavo a vedere ogni 3-4 giorni se erano nati i pulcini se erano cresciuti se erano volati dopo l'uso di diserbante sapete cosa ho trovato? le madri che covavano morte con le uova sotto poi hanno scritto i libri primavera silenziosa e tutte quelle altre cose dopo sono venute le scoperte scientifiche ma io sono rimasto malissimo perché l'ho associato subito era l'unica cosa era l'unica componente estranea in un ambiente naturale rurale l'unica componente estranea il diserbante ma il diserbante non fa morire gli uccelli è vero è un diserbante ma cosa sarà successo? il diserbante viene applicato di mattina di giorno gli uccelli di giorno sono attivi perché i passeri e i compagni sono tutti uccelli diurni le piante nelle prime ore cominciano ad appassire gli insetti si nutrono delle piante continuamente gli insetti si nutrono delle piante ci sono insetti notturni insetti diurni che devorano le piante continuamente di giorno applicando il diserbante gli insetti hanno mangiato le piante e si sono avvelenati gli uccelli hanno fatto incetta di insetti perché era facile da catturare perché l'insetto quando è stordito e non vola bene i passeri lo riescono a catturare anche al volo già in catturazione naturale lo catturano al volo le cavallette grilli tutti questi qua hanno fatto incetta di insetti avvelenati e si sono avvelenati pure loro siccome i passeri sono un po' più in alto nella catena alimentare hanno accumulato il veleno di tutti gli insetti all'insetto bastano due molecole e muore al basso avrà fatto due molecole più due più due più due per tutti gli insetti che ha mangiato ed è morto mai più cose del genere e non abbiamo seminato grano non abbiamo più seminato grano per circa 20-25 anni perché non conveniva mettevamo l'orzo che si può dare un po' tutti gli animali e l'avena che si può utilizzare per quelle quattro pecore per una cavalla per un asino che c'è allora cosa succedeva che grano niente e quindi noi pasta di grano che veniva da chissà dove come purtroppo pure adesso e poi sono venuti i prodotti locali dove ci si comincia ad attingere conosci le persone e dici vabbè se tu coltivi macini la tua farina allora vengo da te perché può esserci qualche vantaggio paghi magari qualche differenza in più di costo ma per la salute non si ha prezzo lo sappiamo bene una frase scontata mi sembra di dire cose banali scusatemi se ripeto banalità però purtroppo le ripeto con entusiasmo perché a volte ci si dimentica nella fretta di tutti i giorni il nostro orto ti dà dei frutti e saranno piccoli e saranno brutti e saranno bacati ma quanto valgono metteteli su una bilancia e dici quanto vale la salute di questo prodotto mio sicuro con quello che sta in giro al giorno d'oggi vale tantissimo io ho provato a fare dei calcoli anche se abberro la matematica e l'economia aziendale dei calcoli sommari non è che mi sono messo con la calcolatrice però ho dedotto che se un frutto biologico una mela biologica può costare un euro e cinquanta le mie costano cinque euro al chilo o dieci la salute non ha prezzo anche cinque euro è poco poi specialmente perché sai cosa ci hai messo nel terreno nella piana e ci coltivazione quindi è un invito questo un invito a coltivare provare coltivare e crederci in quello che fate sia che sia l'allevamento dei lombriche o sia che sia un piccolo giardino di ortaggi o sia che sia un frutteto fatelo con entusiasmo perché ne vale la pena per noi stessi per i figli per chi ci sta intorno e basta insomma i vantaggi dicevamo sono tantissimi se vi annoio scusatemi chiedetemi di stoppare di fermarmi sta zitto copertura vegetazionale avvolta dove il suolo è esposto ad enorme di disidratazione a volte è interessante anche fare dei pergolati questi sono un po' questo è fatto con la vite questo invece è fatto con altri rambicanti tipo passiflora quella che dicevamo prima e possono essere utili sia perché questo è un punto di passaggio abbiamo una strada nel nostro orto nel nostro piccolo giardino a volte ci sono dei vialetti che dobbiamo attraversare e nel vialetto ci sarà un punto al sole inutilizzato se non per l'attraversamento allora utilizziamo anche quella parte là sopra alla volta con delle piante da frutta come la vite o da frutta e da estetica come la passiflora che tra l'altro la passiflora è velocissima cresce qualcosa come 3-4 metri all'anno o 5 anche una pianta anche pure infestante per certi versi se abbiamo acqua se abbiamo possibilità di irrigare di dare un minimo di sostegno si possono usare i kiwi tre piante di kiwi possono produrre un quintale e mezzo di kiwi e un quintale e mezzo di kiwi basta per una famiglia e per tutti gli amici che stanno intorno io ne ho tre piante per questo lo so l'ho provato e gli do quel minimo d'acqua quando posso perché da me non è una zona tanto piovosa la probabilità media è intorno ai 700 millimetri è bassa 700 millimetri insomma siamo al limite sicuramente un po' di più di qua però comunque va aiutato il kiwi è una pianta che va aiutato però un quintale e mezzo di kiwi sono tre cassette quattro cassette grandi piene insomma sono delle soddisfazioni immensa che poi tra l'altro queste piante ragazzi queste piante non hanno bisogno di fitofarmaci un minimo di potatura ai kiwi se vuoi dei frutti più grossi se non li poti vengono un po' più piccoli i commercianti della frutticoltura li chiamano palline perché vengono piccoli così come delle palline però non fa niente io ho anche il mini kiwi che è un'altra specie ed è a frutto liscio è grosso quanto un'oliva da tavola ed è verde come un'oliva da tavola ed è più dolce del kiwi peloso solo che i frutti sono piccoli appunto come olive si mangia anche la buccia sì come una ciliegia ma bisogna mettere in maschio la mezza sempre i kiwi sono piante stesse separate infatti delle tre piante uno è in maschio e due sono femmine la pianta maschio sta là solo a dar fastidio come dicono le donne che i maschi danno fastidio sta in mezzo occupa un sacco di spazio cresce di più e va contenuto con delle potature se no occupa tutto lui il pergolato va contenuto però non troppo se non produce fiori maschili dimmi scusami che ti do il microfono così allora no mi chiedevi se può crescere sotto una conifera no perché il kiwi ha bisogno di luce se è un solo albero di pino già produce tanta ombra ma se l'albero di pino è isolato e c'è sole per metà giornata almeno metà giornata puoi provare però attenzione perché il pino essendo un albero d'alto fusto con le sue radici già ha coperto un po' di tutto il terreno quindi ci vuole il terreno un po' più fresco o profondo se il terreno è fresco e profondo si può provare ma tieni in considerazione che ha bisogno di luce almeno mezza giornata se passiamo il microfono così tutti sentiamo la domanda devono stare vicini nello stesso pergolato vicini significa anche 7-8 metri allora si Anna Maria mi chiedeva se devono stare vicini quanto vicini è giusto 7-8 metri 7-8 metri 7 metri 3 piante 3x7-21 già hai fatto un pergolato di 21 metri e anche più se poi non hai spazio li puoi anche avvicinare comunque hanno una certa autosufficienza in quanto spazio perché sono piante con i rami molto lunghi e il polline viene diffuso abbastanza facilmente perché il polline si sposta sia nell'aria liberamente dal vento e sia attraverso gli insetti gli insetti possono volare e raggiungere l'altra pianta però non bisogna esagerare insomma io credo che oltre i 10 metri tra una pianta e l'altra si cominciano ad avere problemi di minore impollinazione ma se vogliamo fare un pergolato con piante messe ogni 10 metri per una nostra caratteristica perché vogliamo coprire quella pianta lì o aumentiamo il numero di piante oppure si può ricorrere anche all'impollinazione manuale con i qui il kiwi è facilissimo perché basta prendere un mazzetto di fiori maschili quando sono ben aperti andare vicino alla pianta femmina e strofinarli come spennellarli sui fiori femminili vi assicuro che funziona poi il kiwi è una pianta particolare che ha circa ogni frutto ha circa 1500 semi ogni seme ha bisogno di un granulo di polline ci vogliono 1500 granuli efficienti fecondi e funzionali sulla fiore femmina per cui se noi li andiamo a portare manualmente siamo sicuri che quei granuli avvengono tutti quanti tutti quei granuli vanno tutti quanti a buon fine e il frutto viene più grosso perché se non si sviluppano tutti a 1500 il frutto verrà più piccolo la funzione della pianta sembra quella di produrre frutti grandi belli funzionanti per lei stessa noi siamo degli approfittatori che poi ce li mangiamo ma la pianta quei 1500 semi cerchi di impollinarli tutti quanti per avere la potenzialità di riproduzione di 1500 piantine che in natura funziona in modo simile anche se i kiwi selvatici sono più piccoli perché anche i kiwi che coltiviamo quelli pelosi l'iward la varietà più diffusa è una varietà moderna selezionata già da un centinaio di anni e quindi più delicata e torniamo sempre alle solde problematiche e tra l'altro il kiwi è una pianta di foreste umide della Cina foreste tropicali o subtropicali subtropicali umide di montagna cioè zone come da noi dovrebbe essere l'appennino all'altezza dei castagni del castanetum la fascia dove crescono i castagni sull'appennino intorno ai 700-800 metri però piovosa e calda è un altro clima infatti non è appenninico dove crescono i kiwi ma attraverso selezioni sono stati ottenuti queste varietà che crescono dal livello del mare fino a 1000 metri e più in Italia ce ne sono per tutti i gusti è ricco di sì quando volete dimmi tu anche ora ok allora sì la regia mi dice di fare una pausa e poi riprendiamo se ci sono domande a disposizione dove cadono gli aghi dei pini e mi hanno detto che sono per le piante un po' tossici cioè è impossibile coltivare dove ci sono i pini perché i pini gli aghi rendono sì ti rispondo subito ho già capito allora gli aghi dei pini producono acidità nel suolo acidificano il suolo le nostre rocce qui nostre perché anche io sto nel sud Italia della Puglia sono di origine calcarea e sono il calcare dissolvendosi come anche l'argilla da luogo a delle rocce basiche quindi un po' di acidità prodotta dai pini è quasi una congimazione ma se questa congimazione è concentrata è naturalmente un problema ma ci sono delle piante che amano i suoli acidi ha insaputa anche mia che l'ho scoperta poco tempo fa il pomodoro ama dei suoli che siano più acidi che basici l'estrema la pianta estrema per misurare l'acidità attraverso la crescita è il mirtillo il mirtillo è una pianta di zone fredde nel sud Italia non ci cresce manco per niente neanche sull'appennino insomma stenta e ha bisogno di suoli acidi a proposito di questo mi viene in mente un esperimento che potete fare con i vivaisti perché i vivaisti che si chiamano vivaisti in realtà sono dei supermarket delle piante perché loro non allevano loro vendono chi alleva sta molto più lontano e fa tutto un altro lavoraccio quello di partire dalle piantine da seme o da rametti da talee o da innesto e altre tecniche che ci sono allora andate da un vivaista e gli dite senti io sto in Puglia e vorrei piantare un mirtillo che ne dici ci va bene se vi dice che va bene non ti preoccupare andatevene subito senza salutare perché quello è un imbroglione il mirtillo in Puglia non ci cresce ma neanche per sogno è una pianta di zone fredde e terreni acidi qua i terreni sono basici e caldi tutto il contrario anche il ribes il ribes già un po' tollera la neutralità però ha bisogno un po' di frescura terreni freschi quindi sempre sotto un muretto un angolino più riparato se pensate chi c'era al corso di Seed Savers quel giardino che abbiamo visitato di quel signore che irrigava aveva tutto lì c'erano degli angoli dove sarebbe cresciuto bene anche il ribes quei muretti dove c'erano i noccioli che erano più rivolti a nord quindi il ribes già si può tentare ma il mirtillo è molto complicato perché ha bisogno anche di freddo e le piante che hanno bisogno di freddo durante il periodo di freddo devono riposare se non si ha la fase di freddo e di riposo la pianta si stressa anche le piante si stressano e quindi non va bene in fruttificazione ne cresce in modo stentato e l'altro problema grave è che quando una pianta si stressa emette delle sostanze ormonali nell'aria che attira gli insetti predatori avete presente le rose che spesso sono attaccate dagli afidi io facendo giardinaggio e consiglio con le persone ma io ho le rose e hanno gli afidi che ci devo mettere no non ci devi mettere niente gli dico io e quelli poi dopo non mi pagano nemmeno perché gli dico devi trapiantare la rosa è all'ombra la devi mettere al sole la rosa ha bisogno di sole eh ma a me piace vicino alla porta eh ci devi tenere gli afidi oppure ci devi mettere gli insetticidi e poi non vuoi neanche annusare un fiore perché quando c'è messo gli insetticidi insomma ragazzi queste sono le nostre problematiche però si può risolvere si può convivere non bisogna essere insomma bisogna essere testardi in positivo non in negativo se la rosa non ti cresce lì e come dire a me piacciono i ragazzi a scuola dicono sempre voi dovete amare gli animali come amare le piante ma non possederle in modo ossessivo voglio la rosa e deve stare vicino alla porta ma se la porta è in ombra la rosa sarà sempre piena di afidi e ragazzi eh ma a me piacciono gli animali e dico anche a me piacciono gli animali voglio l'elefante lo posso tenere in casa l'elefante e con questo esempio smettono a ridere e smettono di dire che vogliono gli animali il cane siberiano e i camaleonti e tutti questi poveri animali che fanno una vita proprio da ergastolani soli ergastolani e chiusi dentro una gabbia o dentro delle mure domestiche e qui vanno bene i consigli dei cani a pelo corto così non impazziscono di caldo il siberianaschi ha un pelo lanoso che non può essere neanche non gli può essere cospasso neanche l'insetticida quando si riempie di pulce e di ariste che con le ariste nei nostri campi che sono pieni di ariste poveri animali fanno una vita da pazzi quindi cane a pelo corto che sono le varietà locali così le piante allo stesso modo dimmi ah scusami le ariste sono i semi provviste provviste di aculi e spine che si attaccano quelli che noi ci attacchiamo ai calzini quando passiamo nei campi e poi ce li tiriamo e se si attaccano ai peli di un animale la pianta lo fa per essere distribuita su un territorio perché dunque andrà l'animale quando si strappa questa roba che se la pulisce del pelo dal pelo dissemina la pianta in tutto il torno e la pianta ringrazia però l'animale poveraccio non ringrazia tanto perché a volte è complicato specialmente con i cani a pelo lungo i gatti a pelo lungo è la stessa cosa quindi accontentarsi di averli ma accontentarsi di avere roba significa piante animali e quant'altro che sia vicino alle nostre possibilità di allevamento vicino ai nostri climi ci costa di meno anche come pazienza per noi come tempo come soldi come cure e come soddisfazione ok? pausa se c'è un'altra domanda sempre volentieri se no i pausa non finisco mai dimmi se io faccio pacciamatura con gli aghi dei pini non è sbaglio sono i pomodori soprattutto certo va benissimo quindi andrebbe benissimo io ne andavo a bruciare sì 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 la pacciamatura tra l'altro poi ne parleremo si può fare con molti prodotti e se la si fa con prodotti specifici come l'ago di pino sotto i pomodori aiuta ad aumentare il pH del terreno a rendere un po' piacido e quindi hai fatto un ottimo lavoro a costo quasi zero solo il trasporto anche perché comunque abbiamo la roccia quindi abbiamo sì sì giusto questo è positivo come ragionamento va benissimo scusate un attimo per chi ha fatto presenza agli altri corsi faremo passare questo foglio in realtà mettere i vostri dati per la brava in particolare le riprese tra di qua che prenderemo gli diritti per mandare le altre 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 grazie